Buongiorno da WTV News. Oggi 5 giugno è San Bonifacio. Oggi ricorre la giornata mondiale per l'ambiente, iniziativa globale promossa dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, per ricordare l'importanza di preservare il nostro pianeta. Slogan di quest'anno è Beat Plastic Pollution e tutte le attività si concentreranno alla lotta all'inquinamento da plastica. Un futuro amico dell'ambiente che va verso un'economia circolare e nel quale ognuno può fare la sua parte. Una giornata che offre l'opportunità di riflettere sulle questioni ambientali e di promuovere azioni concrete con la consapevolezza che la salvaguardia dell'ambiente è una responsabilità anche e soprattutto verso le generazioni future.